...poi l'ultimo bacio, un bacio a me ancora, lui è Dani, il romanzo criminale, è il viceversore Marcellini, Piazza, e ancora è il maggior edercente, il cento film di Olmi, torneranno tirati. Grazie a tutti. Ti bravo, stupendo. Ti bravo, stupendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravi, 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 bravi. No, è tutto il bel premio che ci sono stati dicendo. E' il ragione. Perché altra, se avete i tacchi, la bellezza a volte viene giù. Va bene, grazie per questo premio e anche io l'ho affascinato da loro. No, 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 io alla fine di Bond, quando ho la regina, prima della regina, fra un messo vestito alla vaniera impese, che è antica, annunciò la regina a stere. Il palco seguì è, salì un organo colorato, la struttura di il mio palco, e uscivano fuori dei combettieri e fecero qualcosa del genere. Io rimasi colpito, non si è andato perché è un gesto, quindi mi colpì un pochino in piatto. Però l'abbiamo fatto per la bandolta e non lo faremo per te. No, 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 no. Ma mi piace vedere la bandolta. Sei cosa fa? Si, e tutto. Oltremmo, avete una cosa scritta da leggere, beh? Si, adesso. E allora lo, mi passiamo a fare. Claudio Santamardina. Grazie. Grazie.